l'organizzazione dell'economia in una società anarchica o durante la fase di transizione rivoluzionaria verso l'anarchia. Essenziale rivoluzione sociale libertaria. L'organizzazione dell'economia di base, orientamento e scopo libertario e il suo sviluppo e dispiegamento rendono indispensabile un cambiamento radicale del sistema capitalista e statale. Questo cambiamento implica necessariamente l'abolizione e il superamento di entrambi e la posa delle basi fondamentali della nuova economia e della società anarchica o del socialismo democratico in marcia verso di essa. Né la società comunista anarchica né nemmeno quella libertaria saranno realizzate dall'arte dell'incantesimo né in un giorno, né in modo sincronizzato a livello mondiale, in una data fase della storia umana universale. La rivoluzione sociale non sarà simultanea in ogni paese del mondo allo stesso tempo. Né può essere uniforme, basata su un unico tipo o modello, poiché condizioni geografiche, climatiche, etniche, demografiche, sviluppo industriale, ricchezza naturale, l'esistenza o meno di materie prime, possibilità agricole, condizioni ambientali, mentalità e cultura, ecc., influenzeranno le sue varianti costruttive, anche sotto l'influenza determinante della linfa e dell'orientamento libertario, facendo sì che, secondo la sua densità e le caratteristiche specifiche indicate, compaiano, non solo universalmente ma anche in ogni paese vero e proprio, il sistema e le sue nuove strutture sotto profili e aspetti multiformi, molteplici e pluralistici, alla ricerca di un miglioramento incessante e di un equilibrio armonico. Ma le caratteristiche essenziali della società anarchica o anarchica e dei mezzi e delle procedure pratiche ed efficaci per raggiungerla, devono manifestarsi con linee direttrici forti e chiare per afferrare la realtà e aprirvi un solco profondo, in vista del fecondo emergere del domani libero, a partire da oggi. Lo scopo della nuova economia libertaria e della società anarchica deve essere la libertà e il benessere di ogni persona che la compone, in un ambiente di uguaglianza sociale e solidarietà umana. Per raggiungere questo fine è indispensabile la scomparsa dello Stato sotto tutte le sue forme di dittatura, anche se definita transitoria, di tutte le istituzioni autoritari del capitalismo, di proprietà privata, di tutte le forme e procedure di sfruttamento e oppressione di persona da persona, di classi sociali, ranghi, girarchie e privilegi, del dipendente. Sebbene la rivoluzione sociale in un paese non possa andare, purtroppo, nelle sue fasi iniziali, al di là di determinate condizioni determinate che inevitabilmente imporranno le caratteristiche del paese stesso e i mezzi che ha nel momento in cui scoppia o si manifesta, almeno nell'ordine economico, poiché l'economia globalmente considerata non si crea o si sviluppa in un istante, dal primo momento, imprimendo la sua impronta fertile e la sua volontà ben definita di realizzare, da parte degli anarchici, la preoccupazione deve essere quella di tradurre in realtà la massima sostanzialità, conquiste e sviluppo libertario. E il motto dovrebbe essere, libertà, pane, abbigliamento, alloggio, cultura e svago per tutti. Da ciascuno secondo i suoi mezzi a ciascuno secondo i suoi bisogni. Sarà necessario distruggere e spazzare via tutti gli ostacoli interni, sopravvissuti a un passato di autoritarismo e sfruttamento, che si oppongono alla libera organizzazione della nuova società. E non si potrà contare molto sulla solidarietà rivoluzionaria mondiale a sostegno della rivoluzione sociale del paese cioè, soprattutto se si presenta con una tipologia predominante anarchica definita. Tutti gli aiuti dei blocchi dominanti a livello internazionale tenderanno alla satellitizzazione. E c'è anche da dire che in ogni profondo cambiamento rivoluzionario c'è un periodo di stagnazione economica, di sperimentazione, di adeguamento delle strutture più adatte agli obiettivi e ai fini perseguiti, che mette alla prova la corrente trasformatrice rivoluzionaria e il suo valore. E capacità di realizzazione e costruzione. Garantire l'esistenza e il libero funzionamento dell'azienda. Dal primo momento è necessario garantire la produzione, l'approvvigionamento, aumentare le prestazioni, la produttività, senza sfruttare la classe operaia produttiva, senza esaurirla, senza imprigionarla in standard di lavoro alienanti. Il trionfo immediato della rivoluzione sociale e il suo consolidamento e le fasi future del suo sviluppo progressivo dipenderanno in gran parte dalla formazione sociale, economica, culturale e ideologica dei lavoratori, da quella che potremmo chiamare specifica capacità rivoluzionaria e libertaria, individualmente e globalmente. Considerato. Il fattore essenziale del nuovo ordine deve essere la persona libera e cosciente di sé. Nessun tipo di economia, già scartando tutto ciò che può supponiamo che il sistema capitalista e statale sia consustanziale con l'anarchismo. Il nostro obiettivo è vivere in libertà e fare tutto il possibile affinché tutti possano goderne e godere, a parità di condizioni, di quanto la terra, la natura e lo sforzo di solidarietà delle persone possono offrire a ciascuno indistintamente. Ampia accoglienza dell'anarchismo sociale. Per le stesse ragioni la nostra concezione del socialismo integrale, del socialismo democratico è ampia e non esaustiva, né unilaterale né uniforme nelle sue possibilità e modalità di applicazione pratica. Altre forme di organizzazione sociale, siano esse mutue, collettiviste, cooperative, ecc., a condizione che tutte le radici dello sfruttamento ne siano escluse. La libertà di sperimentazione delle modalità economiche più giuste e adeguate a soddisfare i bisogni umani e assicurare alle persone la massima libertà e il massimo benessere, dovrebbe avere un percorso aperto nella società anarchica, cercando, naturalmente, di farle andare con certo comune con la coesistenza dell'insieme e del sistema generale basato sull'Associazione Federativa dei Produttori Liberi e dei Consumatori Solidali. Libertà di sperimentazione. La sperimentazione e la coesistenza di socialisti, mutualisti, anarchici, proudon, collettivisti anarchici, anarchici, bacunine R. Mella, comunisti libertari o anarchici, anarchici, croppuccino malatesta, cooperativisti, non commercializzati, ecc. A scala locale, di contea, regionale o nazionale, può essere possibile, all'interno del sistema libertario, salva guardare il principio anarchico essenzialmente anti-autoritario, fondamentalmente autonomo e federalista. E soprattutto se si comprende, com'è logicamente libertario, che l'evoluzione umana è quella delle forme sociali non ristagnano e che nessuna struttura economica può essere considerata definitiva e immutabile. Per creare sempre più libertà, più benessere, più abbondanza di tutto, maggiore perfezione e le condizioni più ottimali per il pieno sviluppo dell'individuo, del gruppo sociale, del gruppo umano, tale deve essere l'orientamento e lo scopo della società anarchica, della organizzazione sociale ed economica libertaria. Schizzi sociali ed economici libertari. L'economia non può svilupparsi senza una base sociale. E dove esiste l'essere umano o il gruppo, la società nasce dalla stessa convivenza. I bisogni sono presentati, con le loro inappellabili richieste, anche dallo stesso ordine biologico semplice e naturale e, manifestandosi nel piano generale, trascendendo l'insieme collettivo, fanno sì che le persone si vedano nel dovere di cercare un ordine o un principio regolatorio, da fare almeno compatibile con la stessa convivenza umana, sia essa basata su un accordo o contratto liberamente accettato e consciamente acconsentito, applicato volontariamente. Nella concezione anarchica, almeno in quella che ammette la base organizzativa per patto libero, il comunismo libertario è il sistema o meccanismo strutturale che rende più praticabile la formazione e lo sviluppo della società, basato su postulati a critici interpretati con lucido realismo, senza mistificazione del significato e del contenuto di questi. Base della nuova società, il comune libero. Pietra angolare o cellula vivente della nuova organizzazione sociale libertaria, per noi, oltre all'individuo, al gruppo, alla collettività, l'unione è il libero comune. Il libero comune, costituito da ciascuno dei cittadini, può svolgere la funzione di coordinamento sociale generale, sotto l'aspetto semplicemente amministrativo, non di potere o di istituzione politica ma di servizio sociale, a livello territoriale e locale. Le loro funzioni devono essere conformi a quelle risoluzioni e decisioni che le stesse libere assemblee comunali hanno preso di comune accordo. Dall'organizzazione comunale devono essere banditi ogni autoritarismo e tutta la burocrazia. Le federazioni provinciali, regionali e nazionali dei liberi comuni possono essere costituite a livello generale di un paese o di una specifica zona geografica ed etnica, e confederarsi a livello internazionale. La comune non deve concentrare in sé il potere politico, e meno il potere militare, che deve anche scomparire del tutto. Nemmeno il potere rivoluzionario. Ogni potere politico deve essere abolito e nessuno lo deve esercitare. Ne dovrebbe esserci un proprietario economico nella comune, che fa del suo termine geografico e storico una riserva chiusa o un feudo. Ogni comune deve essere aperto alla solidarietà, praticarla e riceverla, in base al principio che tutta la ricchezza naturale o creata o fabbricata, tutti i prodotti, strumenti o beni materiali, sono patrimonio comune e rimangono a disposizione di tutti, il suo usufrutto essendo regolamentato. Dalle regole collettive stabilite liberamente e volontariamente. Del sindacato rivoluzionario e delle sue funzioni. L'organismo che meglio può garantire l'organizzazione del lavoro e la sua funzione nella società socialista è il sindacato sindacale rivoluzionario, composto da lavoratori liberi dell'industria, dei campi, delle miniere, dei laboratori e dei centri. Ricerca e ricerca, quelle delle specialità tecniche. I sindacati, raggruppati per branca industria, nelle federazioni locali, provinciali, regionali, nazionali e internazionali. E gestendo direttamente, sotto il loro controllo responsabile, fabbriche e officine, campi, miniere, porti turistici, istituti scientifici e tecnologici, sono enti in grado di garantire la produzione di tutti gli articoli e le cose essenziali alla società e ai suoi componenti, secondo le esigenze che si facciano sentire e si presentino, perseguendo l'obiettivo di creare abbondanza con il contributo di ciascuno allo sforzo comune, secondo le proprie forze e capacità e senza lo sfruttamento di nessuno o di alcun privilegio. Tutte le risorse materiali, economiche e tecniche, i manufatti, i prodotti agricoli, zootecnici, della pesca, ecc., devono essere valutate e messe a disposizione del comune, attraverso gli opportuni ed idonei enti, per la e la distribuzione più equa. Le federazioni dei sindacati possono essere formate da categorie di produzione, industriale, contadina, ecc., o servizi pubblici, servizi postali, comunicazioni, trasporti e altri. La rivoluzione sociale, con la scomparsa della borghesia e delle strutture capitaliste e autoritarie, dovrà stabilire un nuovo ordine economico, che implicherà necessariamente altre modalità di lavoro, riadeguamenti manifatturieri, riconversioni professionali, diverse specialità di produzione. Nei sindacati di professione o industria devono avere potere politico o proprietà di fabbrica, macchinari o prodotti fabbricati. Non si deve permettere nemmeno al proprietario corporativista di mettere radici nella società anarchica. L'autogestione deve essere improntata ad assicurare la migliore e più razionale organizzazione del lavoro e della funzione produttiva, controllata da un alto senso di consapevole e volontaria responsabilità individuale e professionale. I comitati o commissioni di autogestione di fabbrica, azienda, officina o comunità produttrici saranno nominati direttamente dal personale in essi impiegato, soggetti a periodici rinnovi e revocabili. La burocrazia deve essere bandita dai comitati ovunque. Allo stesso personale tecnico o specializzato, in nessun caso, dovrebbe essere conferito lo status di comando. Ci esprimiamo contro l'ammissione del principio di ogni potere ai sindacati, come la concessione, di direzione comando, a qualsiasi persona tecnica o specializzata, responsabile di un lavoro, che deve considerare gli altri lavoratori su un piano di parità morale ed efficace, produttori, cooperando al lavoro di una società comune al servizio del bene comune. Distribuzione e consumo. Lo scopo dell'organizzazione sociale che difendiamo e sosteniamo non dovrebbe essere il vantaggio o il profitto industriale o commerciale, manipolato o monopolizzato da qualsiasi gruppo, clan, entità o ente, ma il bene comune, all'interno della federazione o associazione dei comuni. Libero e solidale. D'altra parte, comprendiamo che le forme economiche e i meccanismi della società anarchica non dovrebbero essere incorporati in una rigida armatura, in un regime monolitico e in strutture inammovibili. Nel rispetto del principio fondamentale di non sfruttamento, di comunità di ricchezza, beni, terreni, macchine e prodotti, tutto deve essere messo a disposizione e consumo e uso individuale e comune. E così la libertà, il pane, la cultura e l'indipendenza nell'unione e la solidarietà saranno meglio garantite e assicurate per tutti. La distribuzione generale coordinata e al dettaglio di prodotti agricoli e manifatturieri può essere assicurata da associazioni o federazioni di consumatori, basate su magazzini di approvvigionamento e fornitura all'ingrosso, dove i sindacati e le comunità di produzione possono fornire e depositare i prodotti, e attraverso cooperative di consumatori e negozi o centri qualificati per la distribuzione al dettaglio, esenti da ogni commercialismo. Organismi della rivoluzione, le collettività, i collettivi di produzione, e anche i gruppi misti di produzione e consumo, soprattutto in ambito agricolo, rurale e contadino, possono anche essere un fattore importante tra i mezzi idonei ed efficaci di insediamento e sviluppo della nuova economia, in quanto organismi vitali. Operando sul principio della libera cooperazione nella nuova economia solidale, senza commercialismo o concorrenza. Come espressione pratica ed efficace della realizzazione collettivista comunista, anarchica, vivente, quella della collettività di tipo libertario può essere offerta durante la rivoluzione spagnola, in una data situazione di realismo storico trascendentale, manifestandosi come organismi efficienti per garantire lo sviluppo economico di un popolo soprattutto, lavorando di concerto con i sindacati e le altre organizzazioni comunali, tra loro complementari, e curando ciascuna, nella sua sfera definita e rispettiva caratteristica, le esigenze e le funzioni economiche e sociali inerenti alla società o comunità. Consigli sociali ed economici. Tra le organizzazioni complementari di utilità, a titolo di consulenza, informazione e statistica, orientamento tecnico, ricerca di modalità organizzative più perfette, coordinamento locale e generale, lezioni pratiche derivate dalle stesse diverse esperienze rispetto a produzione e consumo, sfruttamento e studio delle possibilità di sviluppo economico e sfruttamento di nuove ricchezze in comune, possono esserci consigli economici locali, di contea e regionali, che portano al Consiglio Generale dell'Economia Nazionale Federata. Questi consigli economici non dovrebbero avere alcun potere esecutivo, ma semplicemente una missione consultiva e consultiva. Possono essere formati da delegati nominati dal comune, dai sindacati, dai collettivi, dalle cooperative e dai centri di consumo, dalle organizzazioni tecniche e culturali. Lo scopo dell'organizzazione sociale che difendiamo e sosteniamo non dovrebbe essere il profitto o il profitto industriale o commerciale, manipolato o monopolizzato da qualsiasi gruppo, clan, entità o ente, ma il bene comune. I membri di questi consigli, che potrebbero anche essere chiamati consigli sociali ed economici, saranno nominati dai rispettivi organi e ad essi delegati, su base temporanea rinnovabile e revocabile. Tenendo conto delle esigenze essenziali, materiali, produttive, connesse, culturali e artistiche, ecc., tra i consigli sociali ed economici che si potrebbero formare c'è quello del cibo, quello della casa, quello dell'abbigliamento, quello della produzione agricola e zootecnica e silvicoltura, estrazione mineraria, pesca, trasporti, comunicazioni, artigrafiche, stampa e libri, industria metallurgica e siderurgica, acqua, elettricità e forza motrice, quella dell'industria chimica, quella del ramo del vetro e della ceramica, quella del ramo del legno, quella delle costruzioni, quella della salute, quella della cultura, delle arti e dello svago, quella della scienza, della ricerca e delle tecniche, quella dei magazzini, crediti e scambi, relazioni estere, import ed export, che, attraverso i loro rami locali, comunali, sindacali, collettività, cooperative e gruppi autonomi, senza alcun centralismo, dal basso verso l'alto, si intrecciano in un consiglio generale per il coordinamento e la solidarietà di enti e organi autonomi. Senza poteri esecutivi. I nomi dei vari consigli che elenchiamo possono essere diversi da quelli che diamo, gli accoppiamenti hanno più o meno ampiezza, le delimitazioni per specialità o ramo più varie o sintetiche di quelle indicate. E saranno sempre adottati congiuntamente, tra le parti interessate, direttamente, senza alcuna imposizione. Considerazioni generali. Quando disegniamo o abbozziamo queste modalità o formule, lo facciamo con la principale preoccupazione di evitare influenze e reminiscenze autoritarie, centralizzare, assorbire e monopolizzare le tendenze nella società libertaria anarchica o comunista e con il desiderio di dare libertà, autonomia, contenuti viventi, strutturali, funzionali, pratici e stimolatori di un maggior progresso e miglioramento dell'ascesa. Basiamo l'energia dinamica sociale trasformativa e creativa nell'uomo e nella donna, naturalmente, nella loro coscienza, come essere integrale in se stessi, individualmente come unità autonoma volontariamente associata alla comunità nel suo insieme. Se, nelle fasi di trasformazione verso la piena realizzazione del comunismo, mentre lo sviluppo industriale e agricolo non ha raggiunto un grado sufficiente, per vari motivi, per creare sovrabbondanza e libera acquisizione individuale, senza accumulare o abusare di tutti i tipi di prodotti, si ritiene che una regolarizzazione della distribuzione e del consumo all'interno del sistema di socializzazione applicata, collettivismo o comunismo incipiente non fosse essenziale, dovrebbe essere la più razionale e giusta. Siamo della stessa opinione se si considera la convenienza o l'utilità di un sistema di remunerazione, per fornire agevolazione di acquisto. Siamo contro di lui perché temiamo che la remunerazione, se non è uguale, e anche così, cadrebbe fatalmente in ingiustizie, susciterebbe egoismo e rancore e alla lunga risorgerebbe disuguaglianze. Anche l'esistenza del denaro, già molto controversa nella sociologia libertaria, non è consigliabile, a nostro avviso. E se viene stabilito un segno monetario, basato su obbligazioni o buoni, non deve essere centralizzato in un ente di tipo bancario, ma piuttosto, quando questi buoni o obbligazioni in valuta sono emessi dai comuni, internamente e in generale, devono possiedono un valore di acquisto e intercambiabile in tutti loro. L'accumulo di valori di segno monetario, in specie o prodotti, l'accumulo di qualsiasi natura, da parte di un comune, di una comunità o società potente, più importante o più prospera, di una regione più sviluppata, di allo stesso modo in cui la centralizzazione e il monopolio devono essere, evitati e combattuti. Se si rende necessario stabilire un piano economico generale, sarà necessario assicurarsi che le parti o unità contributive o la cui assistenza e risorse sono richieste o potrebbero essere interessate, non siano sacrificate e accettate in precedenza, perché se la volontà generale è imposta e manifesta con l'onnipotenza di un potere effettivo e indiscutibile si genererebbe il rischio di oppressione o ingiustizia e la ribellione emergerebbe come inevitabile reazione difensiva. La società deve essere come un organismo vivente in cui tutte le cellule o raggruppamenti di esse, tutti gli organi, svolgono la loro funzione, per garantire la vita e la salute, con la differenza che all'interno di quell'organismo sociale di persone si manifesta in modo autonomo, contribuendo con il proprio individualità per arricchirla e vitalizzarla e con la sua intelligenza, ragione e conoscenza, per darle coscienza, umanesimo, sviluppo armonioso, spinta creativa e ascendente. Lo scopo dell'organizzazione sociale che difendiamo e sosteniamo non dovrebbe essere il profitto o il profitto industriale o commerciale, manipolato o monopolizzato da qualsiasi gruppo, clan, entità o ente, ma il bene comune. Lontano da noi la pretesa, che sarebbe futile, di definire in linee guida immutabili, nemmeno a grandi linee e tanto meno nei minimi dettagli, le basi sociali, etiche ed economiche dell'anarchismo, non usiamo la parola politica per lo stesso motivo, a causa della stessa confusione. A cui si presta, come si presta la democrazia. L'evoluzione della storia sappiamo che lungi dal seguire una linea ascendente continua, piuttosto la traccia ondulata ed è piena di contraddizioni, ed è attraverso di esse che nascono le nuove forme sociali ed economiche, e lo sviluppo della coscienza e della coscienza stessa. Etica umana, vengono superate e cedono il passo a nuove forme, strutture e consapevolezza dell'etica umana, vengono superate e cedono il passo a nuove forme, strutture e concezioni, che hanno anche esistenza effimera, in un perpetuo rinnovamento della vita sociale e dei suoi forme, dinamiche creative permanenti del nuovo, imprimendo la sua modulazione e la sua impronta nelle realtà di ogni tempo, in ogni città e nel mondo. È proprio la dialettica della vita che crea quei germi che danno impulso al progresso, passando per il cervello, la coscienza e la volontà di ogni persona e plasmando nelle forme nuove realtà effimere. Consapevoli di questo, come anarchici, lottando per tutti gli audaci realizzatori progressisti, mantenendo vivo e attivo lo spirito rivoluzionario, non poniamo ostacoli o limiti alla costruzione di un domani libero, in continuo processo di sviluppo e ci limitiamo a queste note attorno al tema la organizzazione dell'economia in una società anarchica o durante la fase di transizione rivoluzionaria verso l'anarchia, senza alcuna pretesa esaustiva e come contributo al pensiero e contenuto comune nei contributi alla dottrina libertaria, senza alcuna pretesa di originalità.